La chimica armonica, essendo stagnante, ci provoca anche dei danni, dei micro danni. Prova a fare in manca le fasi. L'ispirazione... ...un approssimato... ...un impatto... ...di nuovo nell'ispirazione. Contiamo? Sì. Ogni fase poi diciamo che conterò da... ...che vogliamo proprio eliminare lo stress. Qui stiamo respirando quello che Raffaele dice, degli elementi... Monoterpeni. Monoterpeni. Questi monoterpeni sembrano che provochi una cicatrizzazione dell'organismo a livello cellulare e antitumorale. Antistress. Antistress. Tutta cosa che consegue a livello cardiovascolare. Ecco, si trovano sotto le foglie questi. Esatto. In questa... ...inviterei. Adesso chi vuole, non è proprio essenziale, ma chiudere gli occhi. ...non incrociare le gambe e le braccia. Lasciate andare. Lasciate andare. Trovare una posizione più comoda anche muovendosi leggermente in modo che il muscolo si adatti al terreno dove poggiate. iniziamo la respirazione. Tre fasi contando da uno a cinque. Iniziamo con l'ispirare. Uno, due, tre, quattro, cinque. Poi uno scarico totale. Lasciate andare tutte le tensioni. Trattenete. Uno, due, tre, quattro, cinque. Ispirate, assorbite tutte le sensazioni intorno dell'ambiente. Tratteniamo per cinque secondi e poi ancora giù. Liberate le tensioni. Le foglie, quindi i nostri sogni obiettivi, sono gli elementi che sintetizzano ciò che ci viene dall'ambiente dove viviamo. Se stiamo in un ambiente stressante è logico che assorbiamo tutte le potenzialità di questo stress. Un diverso tipo di frequenza. Libriamo in maniera diversa. Immettiamo un colore diverso, facciamo anche un'altra similitudine. Se sto immerso in una piscina verde, mi immergo, io sarò un essere verde. Allora Gila perché veremo me i nostri figli. Vig Individual recording, bear�o la conferenza di sigla.